Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo primo episodio di questa nuova build di aereo da 2 metri di apertura alare. Raddoppiamo totalmente, raddoppiamo proprio rispetto al Talon, serie che vi è piaciuta. Aereo ottimo, con il suo metodo di apertura alare comunque è già importante da portare in giro, è già possente, è già bello stabile. Ma volevo qualcosa di gigantesco, quindi ecco a voi questo Make Fly Easy Believer, che sarà teatro di questa nostra build dell'aereo 2021. Ho due obiettivi per questa serie di video. Il primo è renderla comunque interessante anche per chi non costruirà esattamente questo aereo, quindi raccontandovi un sacco di cose interessanti e cercando comunque di trasmettervi valore come faccio in tutti i miei video. Seconda cosa molto importante è di tenere il budget di tutta questa build, per quanto vedrete utilizzeremo componenti top, tenere il budget sotto al costo di un Mavic Mini 2 Fly More Combo. Quindi vogliamo fare un intero aereo gigantesco, 2 metri di apertura alare, pagandolo meno di un Mavic Mini 2. Tra un attimo parleremo anche di tutta l'elettronica. Ho preso veramente il meglio probabilmente di quello che esista su Banggood, il miglior flight controller, gli unici motori che ho trovato in realtà perché erano gli unici motori compatibili con un aereo del genere. Guardate che barra in carbonio. Tra un attimo parleremo anche dell'elettronica, vi dicevo, ma vorrei innanzitutto dare una forma al nostro aereone, giusto per avercelo qua sul tavolo dopo a sfoggiare i suoi due metri di apertura alare. Guardate che fusoliera, guardate che bomba, che bomba, è un missile. Guardate che ali, assurdo. Queste sono le due pinne di coda, quelle della V-Tail, gigantesche. Questa è l'altra ala. Opla. E qua sotto troviamo un gigantesco sacchetto con elettronica, parti di plastica, connettori delle ali e un sacco di altre cose. Quindi questo qua ci sarà utilissimo. Ma prima di metterci a parlare di elettronica, visto che in questo primo episodio su 3, 4, quanti saranno? Non di più. In questo primo episodio, come dicevo, voglio anche iniziare a costruirlo. Però diamogli una forma, così, ad aereo freddo. Proprio per renderci conto delle dimensioni. Attenzione, appoggiando il dito mi è caduto uno sportellino dal lato inferiore. Eccolo qua. Questo sportellino a cosa serve? Serve per il paracadute. Volendo si può anche inserire un paracadute da rilasciare con un servomotore, quindi in maniera, anche questo, elettronica, in caso qualcosa vada storto. Possiamo salvarci l'aereo con un paracadute. Non l'ho previsto nella mia build, quindi non me lo vedrete installare, ma in un secondo momento magari lo monterò. Finiamo di esplorare la nostra fusoliera. Guarda che roba! È gigantesco! È gigantesco! Letteralmente posso... Guarda, mi ci sta l'intero braccio di una persona alta 1,94 m. L'intero avambraccio. Assurdo. In più c'è anche questo sportellino di coda, molto utile per cose tipo il GPS. Diamogli una chiusa un attimo. Andrà incollato, immagino. Lo vedo aprirsi con molta facilità. Perché gli metteremo dei magneti per tenere chiusi gli sportelli. È un po' meno fatto rispetto al talon. E non nel senso che ha fatto meno uso di quelle sostanze che all'algoritmo di YouTube ugualmente non piacciono. Lo sballo è morto, signori. Ma è proprio un po' meno già pronto. Nel senso, vedremo che a differenza del talon mancano i servomotori nelle ali. Adesso vi mostro che li ho comprati a parte. Quindi nel nostro sacchetto di accessori troviamo il braccino per connettere il servomotore. Troviamo la barretta di carbonio qua per il flap, tutte cose. Ma non troviamo il servomotore che va acquistato a parte. Non costa niente, però bisogna ricordarsi che acquistano a parte. Manca, insomma, qualche cosa tiene più. L'ESC manca e il motore. A differenza del talon, ecco. Uh, carbonio che si infila su carbonio. Precisione millimetrica nell'infilaggio. Ma che figata! Molto bene, allora, questa è la situazione. Ragazzi, questo con il controllore di volo migliore che si può trovare su Banggood. Con un GPS di fascia alta, con tutti i sensori del caso, pilota automatico. Probabilmente in due ore, due ore e mezza di tempo di volo. Fate prima stufarvi voi come pilota. Tutto quanto. Riusciremo a farlo costare meno di un Mavic Mini 2 in Flamore Combo. È assurdo! Guardate Mavic Mini per confronto. Stai scherzando? Guarda la superficiale, cioè, una delle code... Allora, ci siamo trasferiti in una location un po' più making. Siamo qua sul mio nuovo banco da lavoro che finalmente ho finito. Andiamo ad analizzare questo aereo, a parlare di tutta l'elettronica che ci metteremo dentro, che attualmente è qua alle mie spalle. A smontarlo, così già cominciamo a fare cose. E a parlare di tutti i lati positivi e negativi di questa build Believer. Primo controllore di volo. Controllore di volo, come vi avevo anticipato, top di gamma. E in effetti è una Matec F7 65. È la migliore che la Matec produca. Producono anche una H7, ma non è ancora uscito il firmware. Non è proprio disponibile il firmware da utilizzare. E quindi sarebbe semplicemente un pezzo di plastica inutile. Mentre questo qua, invece, è un gran computer di bordo. Con autopilota utilizzabile. In dotazione troviamo tre set di piedini, che potrei già portarmi avanti a saldare. Non vorremmo saldare proprio tutti i piedini, solo quelli che andremo a utilizzare per la nostra build dell'aereo. Proseguiamo con la parte di elettronica intelligente. Dopo parleremo del powertrain, che sono tutte in motori e le cose varie. Ricevente per il radiocomando, ho scelto una R9 Slim, che è la ricevente R9, quindi 900 MHz di FR Sky, che ha doppia antenna. Quindi mettendo le antenne angolate così a 90 gradi, in qualsiasi direzione si troverà l'aereo, in su, in giù. Insomma, lui potrà volare tranquillo nel suo cielo. E ci sarà sempre un'antenna che è bella, parallela a quella che poi ho sul mio radiocomando. E che quindi prende bene il segnale, fino a... Pfff, queste cose arrivano anche a 100 km, se siete nelle condizioni giuste. Insomma, non dovremo avere particolari failsafe. Questo è stato un po' un errore, la cam FPV. Volevo prendere una cam piccolina, ma non così piccola. Mi sa che è eccessivamente piccola. Poi non so la qualità video, potrebbe anche essere buona e potrei pure tenerla. Al massimo, se no, la trasferisco su un drone, e al drone rubo una cam un po' più grossa da mettere sull'aereo. Come alternativa, cam di dimensioni decenti ci sono le classiche Predator, sempre della Foxeer. Dovremmo essere arrivati alla Predator 3, 4. Vedete, il numero più alto è l'ultimo modello. In dotazione, assieme alla cam, ricordatevi, nel ripiano inferiore comunque, qualsiasi sia la cam, che trovate sicuramente cavetteria ed elettronica di collegamento. Più le vitine di fissaggio da drone che tanto non ci servono. Visto che stiamo parlando di video, parliamo di trasmittente video. Ho qua una AKK da 2 Watt, è uguale a quella nuova che ho comprato per l'aereo. Questa qua, nello specifico, è quella del compianto Talon. L'aereo più piccolo, che nel frattempo si è schiantato, dovrò aggiustarlo, ma nel frattempo ho qua la VTX. Solo perché non trovo quella nuova che ho comprato per il Believer, ma tanto è la stessa, è la stessa identica. AKK da 2 Watt di potenza, 5.8 GHz. Potrei volerne addirittura mettere due in realtà, potrei voler mettere sia questa qua che rubo al Talon, sul quale magari ne monterò un'altra di un altro tipo, sia quella sua. Insomma, due VTX uguali, entrambe da 2 Watt, per avere migliore segnale. Migliore segnale in quale maniera? Se tanto ognuna delle due spara a 2 Watt, non è che se le metti entrambe a urlare, urlano 4 Watt e arrivi più lontano. No, sono sempre lì vicine, quindi la distanza è la stessa. Ma c'è una questione di antenne. Lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per la ricevente vale anche per le antenne della trasmittente video. Solo che mentre delle antenne così piatte emettono in maniera parallela così, quindi a cilindro tutto attorno, delle antenne a fungo emettono in maniera a ciambella. Quindi se voi la guardate da così sopra immaginatevi un ciambellone tutto attorno, in questa maniera. Quindi avere due VTX mi permette semplicemente di avere due antenne, quella è l'unica ragione. Mettere le due antenne belle a 90 gradi una con l'altra e quindi essere coperto in qualsiasi direzione. Altri due componenti di elettronica smart sono questo GPS che è della Beytian, è il più figo che Beytian produce. C'è il modello top 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 di gamma, dovrebbe essere un BN880. Ed è l'unico GPS che Beytian produce che ha l'antenna amplificata. Questo vuol dire che prenderà anche in mezzo alle montagne, mi è capitato delle volte di andare a volare, e anche se non ero in mezzo agli alberi, perché comunque era un posto dove si poteva tranquillamente decollare con droni aerei. Però anche solo le montagne attorno schermavano abbastanza da far prendere molto male il GPS. Con questo qua dovremmo prendere sempre, perché ha l'antenna elettronicamente attivamente amplificata e quindi prende a bestia. Tra l'altro è gigantesco, ha due piani e molto più grande di qualsiasi GPS abbiate mai messo sui vostri droni, ma tanto non abbiamo problemi di peso su un aereo grande 2 metri. E infine un tubo di pitot. Questo qua è essenziale come componente perché ci permette di stabilire esattamente la velocità dell'aereo, non rispetto al GPS, quindi non la velocità nel mondo, ma la velocità rispetto alla massa d'aria in cui si trova. Perché è più importante questa che non la velocità GPS in un aereo? Perché l'aereo sta su grazie alla portanza che fanno le ali. Aria sbatte contro l'ala, l'ala ha una forma per la quale deforma l'aria, crea una spinta verso l'alto e l'aereo sta su. Quindi la capacità dell'aereo di star su è data da quanta aria gli arriva contro alle ali. E questo non dipende solo dalla velocità dell'aereo, ma dipende anche dalla velocità dell'aria in cui si trova l'aereo. Se ho il vento contro mi passa molta più aria addosso alle ali. Se ho il vento a favore me ne passa molta meno perché io sto andando avanti, ma anche l'aria in cui mi trovo sta andando avanti e quindi la mia velocità rispetto all'aria è molta meno. E rischio di non avere abbastanza fortanza da star su, da stallare e cadere. Quindi un metodo per misurare la velocità dell'aereo rispetto all'aria e non rispetto al GPS è super utile. Come funziona un tubo di pitot? Molto semplice, ha un buco esattamente in cima, dritto per dritto proprio, e dei buchi qua attorno al tubetto. Questo tubetto in realtà è composto da due tubetti, quindi qua dentro c'è un tubetto che si prende l'aria che arriva dai buchi laterali e un tubetto separato che si prende l'aria che arriva dritta in punta. Vedete che dopo hanno due uscite diverse, vanno da due parti diverse. Noi ce le canalizzeremo con questo tubicino di gomma che poi andremo a infilare in questa maniera qua, insomma. E in fondo al tubetto chi c'è? C'è questo che è il nostro misuratore, che è semplicemente un doppio barometro. Sono semplicemente due misuratori di pressione, nei quali andremo ad attaccare i due tubicini. E come funziona? Questo tubo di metallo starà tipo in punta all'aereo, o comunque dritto dove si prende proprio l'aria in faccia. E misurando la differenza di pressione tra l'aria che si becca dritta in faccia e l'aria che entra dai buchetti laterali, può misurare quanta aria gli sta sbattendo sul faccione. La misurazione dei buchi laterali è di confronto, proprio per vedere la pressione atmosferica, visto che questi qua essendo laterali non sbatte niente addosso. Quello in punta invece avrà pressione maggiore, calcolando la differenza, abbiamo la velocità dell'aereo. Tutte cose che non dovremmo fare noi sono automatiche nel software, però ci tengo a spiegarvele, perché se state costruendo questo aereo è meglio che sappiate come funziona, se non lo state costruendo, beh, voglio che questi video vi lasciano qualcosa, qualche informazione, qualcosa che può essere utile nella vita. Io come funziona un tubo di pitolo ho studiato all'università, quindi vi sto insegnando cose che si insegnano in ingegneria industriale, pensa a te. Ah, guardala qua, ho trovato anche la seconda VTX, fantastico. Parliamo di powertrain e iniziamo con i motori. Questi due motori purtroppo sono un po' il tallone da kill di questo aereo, sia perché ho scoperto esserci scritto qua sulla scatola for the entry level per i principianti, e se avessi saputo che c'era scritto non li avrei mai comprati, per quanto siano estremamente belli. Sono fantastici, sono giganteschi rispetto a quelli del drone, e così neri e striati sono un capolavoro. Ma a parte questo, questi motori sono un po' un tallone da kill, perché sono l'unico componente che non può andare a 6 celle. La batteria che monterò sull'aereo sarà purtroppo a 4 celle, perché abbiamo i motori come fattore limitante. Purtroppo non esistevano in tutto il catalogo Banggood, e anche su Aliexpress ho cercato, e anche su Wabie King ho cercato, dei motori che avessero i KV giusti e che tollerassero la tensione dei 22V. Questi comunque sono dei T-Motor AS2814 da 900 KV, lo ricordiamo sempre perché magari non avete seguito le mie serie precedenti su come costruire un drone, cosa sono i KV? Sono giri al minuto per ogni volta di tensione che gli si dà. Quindi per ogni volta di tensione con cui alimenteremo questi motori, faranno 900 giri al minuto, a massima potenza. Chiaramente sono due, perché l'aereo è un bimotore, e questa cosa è bellissima, perché anche se succede una sfiga a un motore, comunque saremo in grado bene o male di tornare a casa. Ridondanza, ridondanza, la ridondanza fa sempre bene. Occhio a recuperare tutte le componenti del motore prima di buttarne via la confezione, perché ad esempio questo bracket di alluminio ci servirà per montarli sull'aereo. Più ci sono vitine, cose, insomma tutta sta roba serve. I motori saranno gestiti da questi ESC, ESC che supportano le 6 celle, vi ho detto che i motori sono gli unici schizzinosi, quindi volendo convertire l'aereo alle 6 celle, un domani posso cambiare solo i motori. Gli ESC vanno bene, la FC va bene, tutto il resto va bene. Questi ESC sono dei grossi ESC da 40A, molto semplici. Mancano i connettori qua purtroppo, i connettori a banana. Magari tagliamo i connettori a banana anche sul motore e li saldiamo insieme, oppure magari saldiamo dei connettori a banana qui e li teniamo plug and play, comunque poi ci penseremo, ma questo è il nostro ESC. ESC da aereo, come lo sappiamo, beh, primo per il peso e le dimensioni che sono veramente enormi, ma secondo perché hanno un bellissimo cavo del segnale molto molto lungo, che dovrebbe permetterci di arrivare fino in fondo all'ara, fino al connettore, che dopo gli permetterà di portare il segnale al flight controller. Anche dell'ESC ovviamente ne abbiamo due, perché va uno per motore. Bene, abbiamo parlato di motori, ci servono ovviamente anche delle eliche. Eccole qua, ne ho prese due clockwise e due counterclockwise, quindi due in senso orario, due fatte per girare in senso anti-orario. Eliche 10x7, quindi 10 pollici di diametro, 7 pollici di pitch, molto standard. Le avrei preferite nere, invece c'erano solo grigie. Ci accontenteremo. Perché ne ho prese quattro? Perché le eliche si rompono, quindi non prendetene una per motore, perché sennò la prima volta che atterrate un po' storti, l'elica magari becca un sassetto e si spacca, dopo vi tocca star fermi un mese a non volare, aspettando che arrivi la nuova elica dalla Cina. Ultimi, ma non ultimi, ma proprio nel vero senso della parola, perché ci servirà anche qualcos'altro, ma ultimi per quanto riguarda l'aereo, i servomotori. Sono degli IMAX, sono degli ES3054. È la nuova versione rispetto ai 3055, per qualche ragione. Se sono più nuovi i 54 che i 55, anzi i 55 sono proprio fuori produzione. Piccoli servomotori pesano 20 grammi, ma hanno 3,5 kg di coppia. Anche questi dovrebbero avere un cavetto sufficientemente lungo da permetterci di delocalizzare un pochettino la parte di elettronica. Inoltre la cosa positiva è che arrivano con tutti questi pezzacci di Teflon da attaccarci in cima per gestire le cose. Questi ci serviranno assolutamente, perché per connetterci all'aereo dovremo utilizzare questi dischitondi qua, che quindi dovremo andare a inserire sul servomotore, e questo è il servo che ci serve. Guarda che bel quadretto familiare! Vi ho detto che ci servirà dell'altro, però, beh, accessori di qualsiasi tipo. Sicuramente vi servirà un taglierino, vi serviranno cacciaviti, vi servirà abbondante nastro isolante, sto partendo dalle cose meno utili. Vi servirà un saldatore a stagno con il suo stagno. Ci serviranno tutti i cavetti che ci sono stati dati in dotazione con fotocamere, VTX e tutte quelle cose là, ma ci servirà anche abbondante cavo, questo qua lo trovate per pochi euro anche su Amazon, non serve comprarlo da la Cina. Cavo del tipo servo, è lo stesso che abbiamo visto sui servomotori, e ci servirà appunto per prolungare tutti i vari cavi degli ESC e dei servomotori, per portarli avanti e indietro per una fusoliera lunga due metri, quindi compratene abbondante. Ci serviranno guaine, guaine termorestringenti di tutti i tipi e dimensioni per chiudere tutte le terminazioni dei cavetti. Ci servirà, anche questo l'ho preso su Amazon, l'ho pagato una scemata, un piccolo seghetto da polistirolo. Questo qua è semplicemente un coso con uno spuntone che si scalda, lo vendono addirittura senza trasformatore per farlo costare di meno, e questo qua ci servirà per scavare il polistirolo dell'aereo, e per scavare il posto ad esempio per la GoPro o per tutte quelle cose che non sono previste di base. Ah no, non sono finiti qua gli attrezzi che ci servono, o almeno gli accessori che ci servono, ma anche la cosa più importante, le colle! In realtà vanno bene colle abbastanza di tutti i tipi. Io quelle che posso consigliare sono il Bostick super trasparente, non usate quello super chiaro perché fa schifo, vi lascia tutti gli aloni gialli in giro, quindi un Bostick trasparente va benissimo, o anche il Patex, quello con la confezione gialla e nera, in alternativa al Bostick, però non so se il Patex lo facciano trasparente. Oppure terza alternativa come colla da polistirolo, o il Bostick o il Patex, o questo UHU Pore, che è una colla fatta apposta per il polistirolo. Io questi quali ho entrambi e li userò a caso uno o l'altro. Inoltre mi sono procurato dell'Attac, questo lo useremo in situazioni diverse, rispetto alla colla più stile Mastic, diciamo, perché questa qui anche una volta asciugata resta comunque un pochettino più gommosa, leggermente più gommosa, quindi va benissimo per tenere insieme il nostro aereo, la nostra fusoliere, eccetera, eccetera. Ma per applicazioni per le quali ci serve proprio la massima rigidezza, tipo sul coso che deve reggere i motori, dove ci sono un sacco di vibrazioni, il motore deve stare sempre perfettamente allineato, invece, useremo l'Attac, che è cianoacrilato. È una colla molto diversa a livello chimico, un collante cianoacrilico, è molto più vetroso come consistenza, al pari praticamente di una ipossidica, e quindi ci servirà in applicazioni di questo tipo. Ho preso la confezione grossa da 20 grammi, perché su Amazon costa come quella da 2 grammi, non so perché, non chiedetemi perché, però sapete che questa qua grossa costa come quella piccola su Amazon. Molto bene, abbiamo anche le colle. E ci serviranno tutti gli accessori che ci danno in dotazione assieme all'aereo, e che adesso ci spulciamo assieme. Nel lungo sacchetto dove c'erano i due tubi di carbonio, dei quali tra un attimo parleremo, troviamo anche delle piccole alette sottili di carbonio, non le abbiamo ancora tolte perché sono un po' fragili, queste ci serviranno per gli alettoni dell'aereo, oppure per mangiare i sushi. Gli alettoni dell'aereo sono quelli che una persona non esperta di aerei potrebbe chiamare flap grandi, i flap delle ali, però non si chiamano flap, i flap sono un'altra cosa. Comunque ci siamo capiti. Allora, componenti in legno, dipinto ma è legno. Componenti in plexiglass, questo nello specifico è un vassoio per la batteria, con tutte le fessure per attaccare giù i lacci e i vecri, insomma, per tenerla ferma. Occhio a non perderli questi perché sono super trasparenti. Comunque gli altri sono, eccoli qua, dei blocca coperchi, per fare da meccanismo di bloccaggio per i coperchi, che tra un attimo vedremo anche loro. Viti, vitame, questi sono i gancetti appunto dei coperchi, sono gli stessi gancetti che dovrebbero andarsi a incasterare qua dentro al plexiglass. Un sacco di cavetti servo, non ci basteranno, quindi compratelo comunque, un sacco di cavo intrecciato, ma sono così gentili da darcene anche in confezione. Questi che sono i coperchi per il motore, quindi si fanno da pancia sotto ai motori, in realtà sotto gli eschi, perché il motore è un po' più avanti verso l'esterno. Viti di altro tipo, viti di altro tipo, ragazzi, ho letto in internet da persone esperte di aerei, quindi affidabili, che è l'unico kit che ti dà talmente tante viti che non sai cosa fartene, quindi dovremo avere viti in abbondanza per montarci l'aereo come meglio ci pare e comunque averne in avanzo. Un cavetto di alimentazione per la batteria, bello lungo ma un po' sottile, un po' molto sottile, questo è un 16 AVG, va bene se fate l'aereo a 6 celle, se lo fate a 4 celle, probabilmente è un po' troppo sottile per alimentarci tutto l'aereo. Serve meglio un 14 o addirittura un 12 AVG. Ganci, gancini, gancetti di plastica, un sacco di robe. Ganci di metallo, questi qua sono per tenere ferme le ali, questi qua li monteremo nel meccanismo di fissaggio delle ali in modo che restano belle agganciate alla fusoliera e anche con grosse sollecitazioni non dovrebbero staccarsi o almeno non saranno loro a staccarsi, ma semmai l'ala a spezzarsi. Ma non succederà su questo aereo, tra un attimo vi spiego, anche perché questi connettori che se li comprate sciolti costano un botto di soldi, sono dei connettori che ci permetteranno di attaccare e staccare le ali in maniera veloce. Praticamente una coppia di questi connettori, chiaramente maschio o femmina, uno sull'ala, uno sulla fusoliera, ci permetteranno in un attimo di attaccare tutti quanti i collegamenti che servono sull'ala. Vedete che ciascuno di questi è composto da due grossi connettori per la potenza più cinque ausiliari che possiamo gestirci come meglio ci pare. Noi li useremo sicuramente per il segnale all'ESC e per il segnale al servomotore dell'alettone dell'ala. Cosettini, cosettini, un sacco di guai nei termorestringenti, se non li avete potrebbero addirittura bastare. Dei cosi tondi per i flap, ecco perché vi ho detto che sul servomotore ci serve il dischetto tondo perché così si attacca meglio a questi qua, che sono in dotazione. Tutta la gestione dei vari alettoni, sono quattro barrette filettate più i loro terminali in plastica per gli alettoni e per i rudderbators. Come si chiamano? Rudder? Vabbè, insomma, la V-tail. E questo che è una cosa molto molto positiva che sono delle scatolette. A cosa servono queste scatolette? Servono per i servomotori. Queste qua si andranno a incollare nell'ala e alloggeranno il servomotore che sarà avvitato a della plastica. A differenza di qualsiasi altro aereo che ha i servomotori incollati bene o male giù nelle ali e magari con il freddo dell'alta montagna, le sollecitazioni e le vibrazioni di volo a una certa il servo ti si stacca. Oppure quando ti si brucia il servo devi strapparlo via cercando di strappare meno polistirolo possibile che però è incollato al servomotore quindi ti viene via mezzo polistirolo dell'ala. Un casino! Invece con delle belle scatolette di plastica possiamo fare tutta la manutenzione che vogliamo possiamo cambiare il servo semplicemente togliendo delle viti e poi siamo sicuri che lui sta sempre lì in posizione e ha un alloggiamento sempre come nuovo. Ci sono un sacco di cose come questi che sono super curate in questo aereo. Questi purtroppo che è tutta la parte di legname sarebbe stato bello se l'avessimo vista anche questa qua di plexiglass visto che c'erano potevano fare tutto di plexiglass ma ci faremo andare bene in legno sono un po' di stecchette per rinforzare l'aereo c'è il grosso vassoio per il flight controller per insomma il controllore di volo il pilota automatico e tutta l'elettronica ci sono le placche alle quali attaccheremo i motori vedete a cosa ci servivano i pezzi di alluminio del motore ah in più l'ultimo sacchetto contiene triccioni di velcro per legare nella nostra batteria e una comoda canalina per aggrovigliare i cavi e farli passare in maniera pulita in giro per l'aereo una volta che li avremo posizionati ma parliamo dell'aereo cos'altro lo rende speciale beh fatemi recuperare un'ala per mostrarvi alcune prelibatezze di questo aereo ad esempio il fatto che arrivi tutto completamente smontato c'è giusto qualche scotch a tenerlo insieme e qualche pezzo di plastica semplicemente infilato ma occhio a non usar l'aereo così com'è perché ad esempio vedete che questo qua era semplicemente appoggiato se io andassi però a rimuovere un pezzo di scotch che trovo qua sopra possiamo vedere come tutta questa parte dell'ala venga via permettendoci di fare tutti i nostri lavori qui del caso potremmo montare tranquillamente il motore messo qui qui indovinate chi ci va esatto l'esc è proprio la sua forma questa è la canaletta anzi il canalone per tutti i cavi che vanno verso la fusoliera ci sistemiamo tutta l'elettronica per bene dopo richiudiamo incolliamo e sarà ancora tutto accessibile però chiaramente in modalità manutenzione cioè un po' più stretto mentre costruiamo l'aereo abbiamo tutto molto più largo e molto più comodo e qui poi va il famoso coperchio di plastica quelli che abbiamo visto prima che però quasi quasi mi ristamperò in PLA solo per averli bianchi non benissimo i flap purtroppo non hanno cerniere ma flettono sul polistirolo per ora li lasceremo così però non è super positivo vedete come già si sta cominciando a crepare leggermente magari ci metterò una striscia di scotch giusto perché non mi si smontino in volo che è pericoloso perché perdete l'aereo ah e questo è il famoso alloggiamento per la scatoletta che andremo a incollare bene in questa maniera il polistirolo non è una cosa semplice da lavorare a macchina la scatoletta di plastica comunque hanno tolleranze dimensionali cioè non è detto che ti vengano precise le dimensioni invece cioè guardalo è perfetta al micron ok in ultimo poi mettiamo via l'ala c'è da dire che il polistirolo è estremamente liscio super liscio e scivoloso ne vedete un po' i riflessi se muovo l'ala ma è proprio incredibilmente liscio e questa è una cosa super positiva perché vuol dire che l'aria scivola meglio e l'aereo vola meglio ma al contempo è super ruvido nelle parti interne cioè questi qua si sono presi la briga di farci il polistirolo ruvido dove dovremmo mettere la colla in modo che la colla faccia presa meglio e il polistirolo liscio dove invece non dobbiamo incollarlo e quindi deve scorrerci l'aria non so se si vede che c'è tutta una textura lineate diagonali qua nella parte interna che invece non troviamo nelle liscissime ali ok riportiamo in scena la fusoliera vado a togliere un paio di scotch questo l'avevo messo solo per tenere su le alette e far scena perché con l'aereo mezzo smontato chiaramente se no si spezzava tutto letteralmente ah no c'era un altro apprezzamento da fare sulla nostra ala che è quanto in cima all'ala arrivino i tubi di carbonio che vediamo in controluce queste ali sono belle rigide e belle resistenti non ci si spezzeranno mai e non fletteranno tanto da compromettere la stabilità di volo hanno veramente ottima ottima costruzione bellissimo il fatto che il coso di carbonio arrivi fin qua in cima idem sulla nostra V-tail che adesso vado a sfilare perché l'avevo giusto montata velocemente va bene anche qua chiaramente pezzi di plastica sono tutti da smontare all'inizio perché poi li incolleremo ma solo dopo che avremo montato le nostre cose anche qui dalla parte dell'ala in realtà esce con un po' di cautela e guardate un po' abbiamo addirittura le parti di plastica che devono ruotare ingrassate in modo che la plastica non faccia trito e non si consumi col tempo e che non acquisti gioco questa qui ha zero gioco non balla di un zero virgola e sarà sempre così perché è ingrassata comunque le code della V-tail hanno anche loro il loro carbonio hanno carbonio doppio anche loro hanno doppia stecchetta di carbonio anche questa che arriva quasi fino in punta anche queste saranno super resistenti e qua in fondo alla fusoliera troviamo l'alloggiamento per i servomotori della V-tail che staranno nella fusoliera quindi il servomotore starà qua e poi con quel meccanismo sul quale vi ho mostrato il grasso un attimo fa passa il movimento all'aletta in questa maniera anche l'aletta è smontabile super facilmente perché non ha niente di elettronica a bordo non fatevi ingannare che questi pezzi siano un po' più rigidi dovrebbero venire via anche loro non sono incollati non usate l'aereo così ma magari li staccheremo tra un attimo intanto vi mostro gli scomparti questo è più grande è chiaramente per l'enorme batteria qua in cima inoltre se vedete qua c'è un foro circolare perché volendo possiamo tagliare e piazzare lì una fotocamera questo aereo è perfetto anche come piattaforma per mapping per fare mappatura di terreni agricoli di zone di aree perché è predisposto proprio per avere una fotocamera grossa qua centrale tra l'altro dicono che ci può stare anche una full frame della sony quindi diversi chili di fotocamera ma anche proprio grossa la 7.3 con la quale sto registrando adesso qua ci sta e tra l'altro questo cerchio è esattamente nel centro di massa vuol dire che se volate con la fotocamera la volta dopo volate senza fotocamera la volta dopo volate con una fotocamera diversa questo non cambia l'assetto dell'aereo perché la fotocamera cade esattamente nel centro di massa e quindi non mi va a sbilanciare l'aereo verso l'avanti o verso il dietro secondo coperchio secondo scompartimento nella fusoliera qui va tutta l'elettronica di controllo quindi il controllo di volo autopilota e tutte quelle cose del genere tra un attimo vi faccio anche una postilla riguardo questo scompartimento ricordiamocene dopo adesso vi mostro anche perché non ve lo dico adesso ma ve lo dico dopo comunque qua in fondo abbiamo un ulteriore piccola botola uno scomparto posteriore piccolino tra l'altro che è collegato al resto della fusoliera da una canaletta che adesso vedremo anche quella questo risulta comodo per non so la ricevente del radiocomando il gps magari ci metteremo qua dentro visto che c'è un buchettino qua tondo ma noi abbiamo un gps gigantesco che sicuramente non ci sta e poi non ha senso metterlo all'esterno a fare attrito con l'aria quando invece il polizirolo è permeabile è perfettamente trasparente alle frequenze 1.2 gigahertz che usa il gps quindi il gps lo metteremo dentro e tanti saluti cioè non fa nessuna differenza metterlo dentro o fuori inoltre sul lato inferiore troviamo un ulteriore botola questa è fatta per il paracadute l'alloggiamento per il paracadute che non monterò perché il paracadute ci pone degli importanti problemi etici che non ho voglia di affrontare ma userò invece questa botola per la VTX anzi le VTX le trasmittette i video anche qua con la loro canaletta per portare tutti i cavi inoltre qua nella parte inferiore troviamo due poco profondi scansi a cosa servono a montare queste placche che sono veramente pesanti cioè tra queste due pesano più di un etto letteralmente più di un etto di peso ma tanto l'aereo chi se ne frega l'aereo è già gigantesco è pesantissimo è già di suo le monteremo molto volentieri perché è un tipo di schiuma molto molto dura che vabbè sia ci distanzia l'aereo dal terreno quindi soprattutto se avete una fotocamera che guarda verso il basso con una lente che si può rompere ma in generale comunque anche se non volete strisciare il pregevole polistirolo così bello liscio ci piacerà averlo distanziato e ci piacerà avere qualcuno che si prenda gli urti e le grattate dell'atterraggio e che però sia il suo scopo farlo vediamo subito eh si striscicchiano però dovrebbero essere ben più resistenti che non questo su cui non provo neanche ah no sono anche un minimo autorigeneranti guarda è quasi sparito il taglio bene ci siamo visti l'aereo da tutti i lati è giunto il momento di vederlo da dentro amici miei perché avete capito bene tutta la fusoliera è in realtà apribile allora è super interessante questo sistema con doppio tubo di carbonio qua perché ci sono questi tubi a dare struttura a rendere rigida la fusoliera e a fare da guida per i tubi che invece infileremo su questi corti tubi noi andiamo a infilare con precisione è estrema anche qua il tubo che mi connette le ali e che dà struttura alle ali ma le ali a loro volta come abbiamo visto hanno il loro tubo di carbonio che arriva fino in fondo all'ala quindi in questa maniera abbiamo chi si occupa di fare struttura alla fusoliera di rendere rigido il tutto e di fare un'ottima guida per le ali chi si occupa di agganciare le ali ma riesce a non essere troppo lungo e chi invece dà struttura all'ala fino in cima con questo sistema tre pezzi di carbonio abbiamo vinto abbiamo vinto ho scelto questo aereo perché è veramente top top di gamma ok vado con calma a sfilare i miei pezzi di plastica dal carbonio che non sembra volermeli lasciare ok ricordatevi questi qua non sono ancora incollati li incolleremo dopo non usateli così come sono perché vi si apre a metà l'aereo per aria e una volta tolti quelli posso anche andare a sfilare i miei connettori di carbonio e indovinate un po' ragazzi tutta la fusoliera si apre a metà questo è stupendo fatemi togliere giusto un pezzo di scotch voilà questo è stupendo perché possiamo mettere mano a tutta la nostra fusoliera sia possiamo studiarne il posizionamento delle componenti possiamo capire dove sono le canalette passare bene comodamente i fili nelle canalette è geniale quale aereo trovate che si apre a metà e potete lavorarci e dopo solo alla fine ve lo incollate poi ci sono chiaramente tutte le botole perché potremmo continuare a fare manutenzione per sempre all'aereo ma il fatto di poterlo montare in maniera così accessibile mi fa volare letteralmente vediamo che ad esempio a prua qui c'è una canaletta nella quale loro vorrebbero farci mettere il simpatico pitot in questa maniera cosa che noi non metteremo però perché qua vorremmo scavare l'abitacolo per la GoPro Hero 8 quindi poi troveremo un altro posto dove mettere il pitot abbiamo qua l'appoggio per la batteria abbiamo qui metà del cerchio della fotocamera che abbiamo visto abbiamo qui un mensola un ripiano su cui andrà proprio la mensola del flight controller che quindi avrà tutto lo spazio per i cavi e tutto lo schifo da mettere sotto e invece sopra ci sarà solo l'elettronica bella perché abbiamo la parte del controllore di volo a due piani questo è l'alloggiamento del paracadute con gli spigoli arrotondati in modo che non rieschi di impigliarsi questa è la canaletta che ci permette di portare tutti i cavi nella parte posteriore dove ci sarà la ricevente del radiocomando e comunque proseguire per arrivare qui dove ci sono i servomotori anche questi qua quanto facilmente possiamo montarli se abbiamo tutto così aperto e ragazzi direi che per questo primo episodio è tutto seguiranno due episodi in cui faremo in uno tutta la parte della fusoliera l'elettronica e tutto quanto nell'altro tutta la parte delle ali dell'elettronica e del powertrain quindi i motori e tutto quello che riguarda l'ala quarto episodio software quinto episodio voliamo e dove voliamo ve lo spoilerò no non ve lo spoilerò non ancora non è ancora il momento ciao a tutti pollice in su ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.